Quello che sta accadendo nella sanità campana è gravissimo. C'è un'indagine della Procura perturbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture che riguarda quei famosi prefabbricati di lamiera ai Covid Hospital che sono costati 18 milioni di euro di soldi dei cittadini campani. Questa inchiesta arriva tanto così dal Presidente della Regione e coinvolge uomini a lui vicinissimi. Il direttore generale dell'ASL Napoli 1, l'ASL più grande d'Europa. Il vertice a capo della Soresa, la centrale degli acquisti della sanità regionale. Un consigliere regionale, Luca Cascone Salernitano, è fedelissimo del Presidente e un'altra fedelissima, una dirigente del PD Avellinese, membro dell'ufficio di gabinetto del Presidente e dell'unità di crisi che gestiva l'emergenza Covid. Avete letto un titolo che riguardi questa vicenda così grave su un giornale nazionale? La risposta è no. Si sta insabbiando tutto questo, nessuno deve sapere. E allora io chiedo, perché i cittadini lombardi devono essere messi nelle condizioni di sapere quello che ha combinato il loro Presidente e il loro Assessore alla Sanità e i cittadini campani no? Com'è possibile che De Luca, che ha gestito l'emergenza come uomo solo al comando, non sapesse nulla di quello che accadeva, di come veniva speso il denaro pubblico? E poi c'è un vizietto che riguarda il sistema De Luca. Vi ricordate il figlio di De Luca che nell'indagine di Fanpage trattava con un finto imprenditore dei rifiuti per lo smaltimento delle coballe e dei rifiuti in Campania a nome della Regione? Il figlio di De Luca a nessun conto trattava a nome della Regione? Oggi scopriamo che un consigliere regionale, Luca Cascone, che è consigliere del Presidente per i temi relativi al trasporto pubblico e ai trasporti, trattasse per le forniture Covid in tempo di emergenza. A che titolo? Questo è forse il sistema De Luca? E questo è il modo in cui si gestisce la cosa pubblica? Come un fatto privato, messo nelle mani dei propri fedelissimi? Allora io non ci sto a vedere trattata la sanità campana così. È tempo di liberare la sanità campana? È tempo di accendere un riflettore su quello che è successo in tempo di emergenza e non solo? Su come sono stati spesi centinaia di milioni di euro dei cittadini campani? Anzitutto bisogna dire ai cittadini che due dei tre Covid hospital, su cui oggi ci sono tutte queste ombre, non apriranno mai, non sono stati mai neanche collaudati a Salerno e a Caserta. Questa è tutta l'urgenza che c'era di far arrivare questi prefabbricati e di spendere così tanti soldi, quando invece noi a inizio aprile avevamo chiesto che quei milioni di euro potessero servire per riparare, per adeguare, gli ospedali smantellati da De Luca e prima di lui da Caldoro, trasformati in scheletri vuoti perché quegli interventi poi rimanessero ai cittadini della Campania che oggi avranno sulle spalle solo un ammasso di lamiere che non sono servite a nulla o quasi a nulla. Chiedo al Ministro Lamorgese di dare il via rapidamente al procedimento per il commissariamento dell'ASNapoli 1. Non possiamo più tollerare come cittadini di questa terra che sulla nostra sanità e sulla gestione del nostro diritto alla salute gravino ombre così pesanti, via la politica dalla sanità, via le mani di De Luca dalla sanità, una volta per tutte.